rieccoci di nuovo avevamo avuto un grazie al mondo libero molto solerte nel vigilare sulla proprietà privata soprattutto quella delle grandi multinazionali e anche laddove non perderebbero un solo nichelino per il fatto che io abbia mostrato a scopo didattico il loro live loro trailer cioè quindi neanche avessi mostrato un pezzo di film sono io non commento e diciamo lo citerò e mi chiederanno riguardo a quelle diciamo mi chiederanno in merito alle mie scetticismo sul bellissimo magnifico mondo progressivo in cui viviamo ecco e mi confermo adesso provvedo subito a a inserire nei nei commenti giusto per capire a che punto della live si è bloccata dopo abbiamo fatto stavamo proiettando stavamo commentando la scena e appena subito dopo la scena in cui effettivamente il generale ha fatto un po lo smargiasso e quindi ha mostrato sì questi 20 generali cattivissimi poi c'è sul mucchio c'era anche qualcuno che effettivamente mi sembra andrea graziani che quello che poi è morto misteriosamente caduto da un treno qualche anno dopo la guerra diciamo che si era fatto benvolere in effetti in quel caso quindi si chissà quanti veterani si ha beccato in giro che gli hanno tirate sai basta trovarne uno che abbia le scatole un po girate comunque beh sì google possiamo dire che sia google multinazionale possiamo dire che sia un potere forte almeno quello è brava brava basilissa che ha capito chi c'è di allora l'algoritmo di google è sicuramente almeno quello possiamo dire che sia poi magari ecco a terra nei poteri forti a volte viene usato un po così alla memoria di potente però è l'algoritmo di youtube è onnipotente al di là dei poteri forti lui si beh probabilmente si cioè non si beh se poteri forti ti riferisci a quelle ragazzate come la massoneria la mafia la democrazia istria ma questi sono i tuoi direttanti rispetto all'algoritmo di google cioè esatto e no per quanto riguarda la didattica fatta con i film storici anche lì secondo me bisogna fare una bella distinzione tra il messaggio che si vuole portare all'interno della classe nel senso ci sono i professori che vogliono portare un messaggio a livello del protagonista propagandistico come possono essere i film di una volta che vogliono raccontare le storie patrie le storie per creare uno spirito nazionale che comunque da dai primi film in bianco e nero anche anche muti fino anche agli anni cinquanta sessanta comodamente se ne trovano tantissimi non mi ricordo il film che parla della battaglia del lago ghiacciato quello russo è l'alessandro niersky naturalmente esatto quello che è la grande epica del della della russia che è stato creato anche in parte anche proprio per come come messaggio propagandistico nazionale e lì si vede parte l'evento storico però tutto il resto è molto molto romanzate molto molto e lì se un professore vuole fare ancora questo tipo di narrazione proietta quello per proiettare invece un film storico e storiograficamente corretto è un po un campo minato è un po un campo minato perché quasi tutti i film c'è quella cosa che stona e il problema del film rispetto a un libro di storia è che il film rimane nella mente se tu vedi un errore un dettaglio che ti colpisce in un film ti rimarrà nel nel cervello finché non finché non c'è per il resto della vita e quindi rischia è un po un terno all'otto ci sono dei film molto validi a questo punto di vista che come dicevo secondo me costruiscono molto bene il mondo nel quale sono ambientati non sono necessariamente perfetti perché anche lì il film raramente i film sono fatti storici sono fatti da conoscitori veri della storia e raramente i registi e sceneggiatori ascoltano gli storici che paradossalmente chiamano anche lì scott ha detto chiaramente questa cosa mi ha fatto un po ridere un fatto un po tristezza a chiamare cioè aveva intorno a sé non so se uno più storici e e lui quando gli crittivano qualcosa diceva ma voi c'eravate ma fatevi fatti voi c'eravate e uno fa no mi sembra il il mag buongiorno di fiorello quando gli fa ma perché mario bianchi tu c'eri che lo dice ovviamente per prendere invece il rispotte che il livello di rincoglionimento credo che ormai sia comparabile ti dice perché tu c'eri a quei tempi noi scovici il nostro lavoro sarebbe proprio quello di capire quello che è successo anche quando non c'eravamo soprattutto quando non c'eravamo esatto lo scopo sarebbe quello ecco poi che non tutti ci riescano ma no no ma infatti allora uno dice uno cosa cosa fai una nessuno c'è da nessuna parte cosa vuol dire mi invento una storia mi dicono tu c'eri no non ci sono è una storia inventata cosa vuol dire si torna sempre lì allora lo storico è un è un piscuano che si diverte a leggere delle carte vecchie perché fa figo e quindi ogni tanto dice qualche fregnaccia così perché c'ha tempo da perdere e riesce un po racimolare qualche soldo da qualche da qualche piscuano peggiore che compra pure i suoi libri quindi chi è lo scemo il quello che va quello che fa lo scemo quello che va con lo scemo si si arriva sempre lì poi alla fine all'utilità della storiografia all'utilità del mestiere dello storico all'utilità di divulgare la storia cosa serve far storia cosa serve far vedere la storia la storia perché se è un passatempo allora tanto vale liberamente anche 300 va bene perché 300 su 300 io spezzo una lancia non so perché io devo dire che 300 e tutto sommato è più storico del napoleo 300 ha un vantaggio io guarda spezzo la lancia su 300 perché vabbè 300 l'ho visto quando è uscito ho visto con l'amorosa è un film ignorante nel senso buono del termine tra sopra le righe ma in maniera che ti dice alla fine perché poi 300 se tu guardi c'è l'esperiente narrativo che tutto al film raccontato dal tizio spartano che alla fine combatte a platea ora il film è esattamente quello che ti immagini che lo spartano così come te lo racconta erodoto come te racconta senofonte come ti avrebbe raccontato nel senso che quel film ha dentro tutto sostanza tutto ametizzazione di sparta degli fatta dagli stessi storici antichi anche il fatto c'è la donna forte aristotele si lamentava che a sparta le donne erano troppo importanti anche un po potenti troppo diceva che i spartani erano troppo femministi cioè certo alla fine secondo me 300 però questa cosa va spiegata cioè nel senso se tu davvero metti parte io non so chi ci sia ancora che fa vedere i film storici con un intento di educazione civiche civile ecco nel senso a meno si la mia professoressa di latino la mia professoressa di latino al liceo la professoressa guida che saluto cecilia che non ci segue però la saluto mi sembra corretto ci faceva vedere almeno un film all'anno verso la fine del dell'anno con intento civico vabbè ci ha fatto vedere film a livello di stand by me anche però ci ha fatto vedere anche un film che si chiama ne parlavo l'altro giorno con giovane battista ritorneranno ritorneranno i campi se non sbaglio produzione di produzione italiana che parla di una trincea su nelle montagne una trincea italiana su in montagna adesso non mi ricordo bene se al confine con l'austria o se con nel carso comunque periodo invernale le difficoltà la quotidianità del soldato ci ha fatto vedere questo film che si è è molto artigianale molto anche non dico romanzato però parla di un battaglione qualsiasi che poteva essere in quelle zone lì ed è molto più secondo me è veritiero di tanti film un po un po troppo grandiosi voglio raccontare eventi roboanti e che poi rischiano di cadere in fallo su delle cavolate su delle cavolate portando poi una una narrazione a rappresentazione falsata alla fine poi poi se non lancia fuori dei registi comunque è necessario un certo livello di finzione perché altrimenti sicuramente sicuramente sì 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 ma quello quello senza dubbio perché alla fine è un prodotto artistico prima di tutto è il film tanto quanto il romanzo tanto quanto il fumetto perché appunto 300 stesso nasce come fumetto però appunto come dicevi tu andrea prima una bella cosa di 300 è proprio il fatto che come dicevi utilizza quelle potrebbero essere categorie mentali di di uno spartano che va combattuto alle termopili cioè per lui i persiani erano una marea erano tutti quanti una specie di 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 carne da macello tutti così perché tanto per loro erano tutti schiavi no cioè il greco quando combatteva contro un persiano pensava a un esercito di schiavi che tanto sono tutti quanti costretti sono vestiti belli per l'amor del cielo però di stracci e poi che sono tutti quanti delle bestie che fanno robe strani cioè che hanno c'è anche un una specie di tizio con la testa di capra che dentro nell'arem che se la fa con delle tipe per loro era così per loro erano era gente veniva dall'altra parte del mondo dove non si sapeva neanche cosa ci fosse alla fine perché sì lì si sa che ci sono cose strane però alla fine quello è e appunto per loro erano dei erano fuori dalla civiltà erano barbari erano barbari quanti quindi tanto valeva che fossero gente anche tra di loro mezza capra e mezzo essere umano potrebbero esserci benissimo anche creature mitologiche in persia era pieno di vantaggio non le avevo le greci sì ma questo è un altro discorso vabbè sì esatto ma la questione da quel punto di vista lì sì è apprezzabile è apprezzabile anche lì secondo me il regista e chi fa queste cose deve un po anche dichiarare quello che fa cioè deve dire io voglio fare una cosa basata su un evento però la voglio fare un po di fan di fantasia voglio un po prendermi delle libertà invece se uno vuole rappresentare anche qui questo film è stato è stato pubblicizzato in parte da dai produttori e in parte anche da da dai media e così è stato pubblicizzato come la vera storia cioè come è andata chi era napoleone finalmente un napoleone veritiero e verosimile poi uno vede questa cosa qua e dice ma anche no ma anche no se mi dice un napoleone romanzato napoleon in love va bene prendi napoleone diceva secondo me è un ragazzetto che sta innamorato dalla moglie che non vede l'ora di tornare a casa per per consumare ancora una volta se invece mi dici che è un napoleone vero finalmente abbiamo scoperto chi era non è accettabile questo punto di vista perché poi viene visto la gente dice a eccolo il napoleone ecco chi era napoleone era questo qui secondo te non sono in grado dice è una domanda un po retorica ma non sono in grado di distinguere tra piano narrativo cioè io una cosa fondamentale quando uso il cinema in tutti i film in classe a scuola spesso in realtà sincono perché non è che diciamo le nostre nostre proiettori soprattutto i nostri schermi hanno questa grandissima qualità è bucatodico ancora no beh anche sono ma comunque uno le ore a disposizione sono quelle che sono e due ovviamente non quindi però diciamo che anche il tipo di lavoro che di domanda che pongo rispetto al film è sempre in che modo racconta che idea che visione che mo cioè bisogna sempre introdurre secondo me anche proprio uno stacco tra cioè alla fine che il film è un'opera d'arte che rappresenta comunque quindi però c'è sempre un filtro comunque tra quello che viene rappresentato e tra il fatto storico l'evento storico e il film leggermente diverso io faccio un esempio film che secondo me va visto perché anche se non è perfetto dal punto di vista storico alla fine però è un film che ti dà un quadro secondo me accurato del periodo esempio io ho dato in quarta ho fatto vedere alla triste il destino di un guerriero finché effettivamente un film che al botteghino non è che abbia avuto questo successo però effettivamente anche perché soffre il fatto che hanno preso sette libri hanno cercato di infilarli tutti in due o un quarto di film i risultati non eccelsi ecco però dal punto di vista come film di costume un film storico pur con qualche inesattezza fa un lavoro notevole gli dà un'idea per esempio di come si combatteva all'epoca io spiego la riduzione militare poi lì ho subito il quadrato del terzio con moschettieri e picchieri che si coordinano tra loro o la guerra d'assidio scientifico con le trincee o anche la guerra di mina quando scavano o duelli bene o male realistici rispetto ai tempi o la scena iniziale dell'incursione in cui arrivano la prima cosa che fanno è inchiodare i cannoni cosa che lì non lo spiega però si spiega che questi cosa che sta deciso a vaterlo tra l'altro la storia di cavallo i francesi non avevano i chiodi per mettere i cannoni inglesi fuori combattimento si questo è un oppure è un altro film che ho dato per il periodo successivo successivo e barry lindon altro film che poi vabbè è ovvio che dipende tra uno si adatta al linguistico io faccio vedere in inglese all'artistico gli chiedo di concentrarsi su tutti i richiami pittorici che sono presenti in quel film sono tanti tra l'altro citazioni d'opera quindi è ovvio che quello è un film che fa anche costume secondo me sono alcuni film riescono ad avere una vero simiglianza accettabile a mio parere poi barbero già per esempio versi documentari sono pieni di errori però lì sono riusciti a creare veramente quell'idea di come un pellegrino dell'america vedeva la strega oppure in the north man riesce a restituirti l'idea di come i vichinghi saccheggiavano la russa di kiev come funzionava il guerriero berserk riescono a restituirti bene quell'idea o anche il funerale vichingo come organizzato nel film è abbastanza attinente alla realtà storica quindi la narrativa e la storicità possono marciare tranquillamente insieme non è necessario stravolgere i fatti per quanto mi riguarda poi non so se voi l'avete visto in questi due film però per quanto mi riguarda sono due gioiellini ma anche sulle guerre napoleoniche uno di quelli fatto bene diciamo considerato un buon film dal punto di vista diciamo della resa anche in particolare di quella che potrebbe essere la vita del tempo è un master commander per esempio che dal punto di vista ovviamente possono i migliori sull'ambito della guerra navale in questo periodo che poi quindi siamo al culmine dell'età della vela poi ovvio che c'è qualsiasi cosa uno porta in classe deve contestualizzare cioè la deve un attimo cioè deve inquadrarla ovvio che non va beh qui abbiamo ci dicono anche qua le scelte sono sempre poi noi in italia abbiamo questo un altro problema parte cioè in italia abbiamo anche un problema legato al fatto che non siamo riusciti a fare un cinema epico cioè epico cinemastro cioè non siamo rimasti diciamo stiamo stati dei grandi maestri del neorealismo è mancato ciò che invece nel film non deve anche sapere sono anche film che devono anche sapere saltare nel senso paradossalmente io anche se dovessi fare un anche prendendo in esame l'epoca fascista ma non è che mi vengano in mente molti filmoni paragonabili a quelli di eisenstein o appunto a quelli tedeschi sì c'è la storia dell'alcazar che era il classico filmone che vi ha proiettato in tutte le sezioni delle msi almeno una volta l'anno probabilmente io penso rosso asci più nell'africano ma sì però che regista carmine gallone è lo stesso che ha fatto anche alcuni film di don camillo peraltro quello che lavoravano in base a quello che gli avevano da fare nel senso registi bravi ma hanno fatto un po' di tutto ha fatto gli ultimi giorni di pompei ha fatto scipione l'africano sì 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 ha fatto alcuni film sì beh diciamo ma poi non non rimaneva secondo me un po' diciamo nonostante l'insistenza sulla cinematografia come arma più forte mancava forse anche diciamo l'afflato etico e poi anche dopo lo stesso dopo anche diciamo anche in ambito antifascista prima dicevamo ma ci sono film fatti bene sulla resistenza italiana che siano in grado di trasmettere di c'è qualcosa di paragonabile alla battaglia della naretva quello di quello fatti invece jugoslavi facevano appunto avevano film che mi vengono in mente sono secondari ambientati durante l'esistenza che però trattano argomenti non attinenti alla resistenza o comunque che la sfiorano non mi viene in mente proprio qualche film che tratta quell'argomento in cui protagonisti siano dei partigiani invece per citare gli offlag al disco pax uno dice tele capolista era un vulcano di emozioni film partigiani dove i tedeschi erano cattivi e i partigiani buonissimi intelligentissimi quindi sì diciamo avevano ovviamente c'era l'idea di fare dei film che celebrassero anche come per esempio la battaglia della naretva aveva anche un cast internazionale c'è i ultra inner e noi invece questa cosa c'è stato qualcosina ancora sulla seconda guerra mondiale ma diciamo di quel filone più moderato diciamo che purini sono stati poco per esempio mi viene in mente quello i film era l'ultima carica quello di fino agli anni 50 60 non l'ultima carica no non un altro quello quello sulla carica di sbushensky che hanno fatto un film di cui però non mi ricordo il nome è film diciamo a questo punto non particolarmente ma anche la lamento carica eroica del 50 de robertis che ha fatto una serie di film di questo tipo ha fatto uomini sul fondo che che salvano i marinai di un sommergibile perché lui faceva quei film legati diciamo la propaganda però ha fatto cose del genere anche dopo negli anni 50 però non si può dire che siano film particolarmente anche io non so neanche poi se possiamo definire fino a che punto possiamo definire film storici film che comunque alla fine sono abbastanza di attualità perché è un film sulla seconda guerra mondiale fatto negli anni 50 e ancora siamo ancora ho anche un altro un altro che interessante è quello italiana italiani brava gente film del 64 che ovviamente la cosa divertente è che il film con un titolo del genere che oggi verrebbero filippi cazzullo e compagnia bella raccontarci a strattarsi le bestie tutto fu fatto come coproduzione italo sovietica così che i russi dicevano italiani brava gente rispetto ai tedeschi da lì viene quel sì perché poi a livello cioè infatti cosa italiana brava gente viene da un contesto come quello russo gli italiani erano schiati sul fronte non erano coinvolti se non marginalmente le operazioni di repressione della guerriglia anche perché era un ambiente abbastanza tranquillo da quel punto di vista con la parte dell'ucraina dell'attuale donbass di fatto e invece ovviamente ovvio che una cosa del genere non la dicevano nei balcani dove siamo andati giù un pochino più pesanti premesso che è bellissima la diretta di accademia dei pugni su invece sul le forze d'occupazione italiane nella spagna napoleonica pazzesca i francesi mandavano gli italiani a razziare la roba degli spagnoli e quindi poi finiva ovviamente a diciamo qualcosa del genere si vede in napoleon c'è la scena in cui vadano la russia che cominciano a trovare i soldati francesi inchiodati agli alberi anche lì non è c'è si trascura questa cosa ma tendenzialmente anche i russi anche in quel caso misero su una guerra di resistenza snervante sia la parte dei cosacchi e forze regolari cadevano anche la parte dei semplici contadini che non erano molto contenti che hanno fatto i francesi di portassero via tutto quello che cadevano ah beh sì è normale ma sì ma infatti ma se uno anche lì indaga un attimo dice vabbè non stiamo tanto a guardare a questi qua è passato l'esercito ha fatto cose cattive così sì passato l'esercito e giustamente in un'epoca nella quale funzionava un po' in maniera diversa rispetto al 2023 se uno mi entrava in casa voleva rubarmi tutto quello che avevo io c'avevo veramente due cose che sapevo che non passavo l'inverno se non ce l'avevo è come dire se lo vedo un attimo un po' lontano rispetto al suo battaglione diciamo che non fa la bella fine sicuramente chiamo tre o quattro dei miei amici che anche lì passano tutta la loro vita nei campi lo branchiamo e lo facciamo sparire ma è normale ci sta in quei contesti lì è curioso appunto la cosa del film sovietico che appunto i sovietici accettano promuovono questa narrazione con gli italiani che sono alla fine anche loro vittime dei tedeschi che sono amici è stata un po' diciamo adesso c'è il libro di quel tedesco schlemmer che ha scritto un libro per un librone per documentare e poi anche lui alla fine a forza di non è che abbia trovato grandi c'è lui stesso è stato costretto ad ammettere che alla fine il comportamento italiano non può essere paragonato a quello tedesco nel contesto russo invece andendo al punto passando invece avanti tornando al presente un film che non ho visto a differenza di napoleone avrei dovuto fare il contrario sicuramente è comandante è comandante al pregio di essere un film che è stato accusato a destra di essere troppo buonista umanitarista e invece a sinistra accusato di essere nazionalista nostalgico quindi il governo fascista della Meloni capisci che quello è un bel film è un ottimo film se poi dice così diciamo uno dice allora deve essere bello perché è vero che due imbecilli non fanno un saggio però diciamo che almeno quanto meno curioso può essere sì no almeno sai dove non devi essere quindi sì sì no no veramente e infatti vabbè domani sera bello tranquillo cerco è da notare che nella cinematografia italiana nei film più famosi che mi vengono in mente i fascisti non vengono neanche mai interpretati come cattivi veri e propri sono sempre quelli sciocchi gli stupidi quelli che non ne incarrano una però non c'è non c'è l'epica del partigiano che sconfigge il fascista che sconfigge il tedesco non sono riusciti a creare un'epica nazionale anche in questo caso il fascista che non sono mai cattivi il novecento di Bertolucci c'è il fascista che è veramente cattivissimo cioè proprio il novecento però se io penso a qualche altro film anni cinquanta sessanta o settanta c'è sempre il fascista Salò come lo definiamo? eh il Salò cos'è? però Salò alla fine con l'RSI non c'entra veramente nulla Pasolini l'ha preso Saad che tra l'altro è divertente cioè Saad ha un taglio molto più cioè Saad scrive questa cosa come quasi come la sua fantasia cioè Saad è molto più giocoso Pasolini invece ne fa una questione proprio cioè Pasolini che collega questa cosa al potere totalitario perché Pasolini pensa che chi ha il potere in un regime novecentesco può davvero fare delle cose del genere a differenza dell'anzia regime francese dove tendenzialmente cioè infatti lo stesso Saad per un decimo di quello che ha descritto è finito in galera cioè voglio dire nel senso Saad per molto meno rispetto a quello che lui descrive nei suoi libri cioè semplicemente se non va gli aveva fatto legare aveva legato una prostituta a un crocifisso e poi l'aveva frustata cioè solo per quello diciamo non è una cosa molto gradita all'epoca e anche se era marchese diciamo che sì non era immune ecco no invece un filo no sì diciamo che Salò ecco lui l'ha messo nel perché ha identificato il fascismo uguale ma in assoluto infatti Pasolini il termine fascismo poi lo usa non lo usa per definire il fascismo storico di fatto lo usa come simbolo è un allegoria volevo dire per quanto riguarda i film italiani storici c'è una chicca dimenticata da tutti proprio perché è stato distrutto non è stato mai mandato in giro quasi è stato distrutto dalla critica è così 11 settembre 1683 collaborazione italiana RAI e Polonia riguardo all'assedio di Vienna da parte dei turchi è una chicca è una chicca guarda che Martinelli ho visto delle cioè io adesso a questo punto vorrei che l'algoritmo mi denuncia mi correlasse direttamente per diffamazione a Martinelli ho visto delle cose veramente agghiaccianti cioè non dovrebbe dirigere neanche un filmino della prima comunione io mi sono divertito io ho visto Barbarossa Barbarossa è veramente una cosa in confronto a Napoleon di Scott in confronto a Barbarossa è da Oscar sì 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 no ma il bello è che vedi quello che si voleva dire cioè i turchi passano cara Mustafa non so si vede poco il sultano il sultano ma cara Mustafa si vede tutto il tempo e i suoi generali così a dire trasformeremo quella in una moschea palazzo di Vienna moschea San Pietro a Roma moschea poi andiamo di là un'altra moschea tutte moschee lungo la strada da Istanbul passando da Budapest fino così Friuli scendi Roma tutte moschee ma tre quarti del film è così e era questa cosa è stata bellissima bellissima perché poi uno si immagina giustamente che i turchi andassero in giro e prendessero tutte le case dei privati dei contadini così adesso è una moschea via i polli via i maiali adesso è una moschea basta così tutti a pregarli dentro e uno veramente dice caspita allora era così allora era veramente quello l'obiettivo così di fare terra bruciata bam moschea e viene premuto veramente così tanto nel film che diventa comico infatti io sì sì ma guarda io Martinelli apprezzo infatti perché sono involontariamente comici ho visto il mercante di pietre per esempio che è una cosa cioè non è un film storico è ambientato subito dopo il 11 settembre quindi con i terroristi cattivi con gli islamizzare il mondo cioè queste cose e ma anche Barbarossa film storico uno diventa ovviamente ghibellino convinto dopo 5 minuti di film cioè anche vede che Barbarossa anche un figo un gerauwer mentre qui a Lega Lombarda sono barazzani cioè parte Alberto Giussano interpretato da Razza Degas che non è propriamente un esempio di padanità qua abbiamo Caramostas che è stato interpretato da Enrico Loverso quindi comunque bravi cioè come allora interpretazione attoriale no ma Martinelli ha degli attori a disposizione degli attori bravi di Murea Banger poi la regia la sceneggiatura è una cosa che penso che cioè Vaitarlan almeno era un bravo regista poi faceva film di propaganda del Reich però era un regista sicuramente molto competente ma infatti infatti e veramente mi ha colpito perché sono rimasto io ce l'ho l'ho comprato anche in dvd perché mi è rimasto nel cuore è talmente divertente è talmente sai lo guardi come bello bello mi è piaciuto veramente tanto per quanto riguarda altri film io vabbè prima hai nominato il mestiere delle armi quello è un filmone è un filmone prima di tutto perché una cosa che ho apprezzato veramente tanto di quel film è l'uso dell'espediente dei testi dell'epoca letti come appunto espediente narrativo per mandare avanti i pensieri dei personaggi la storia per spiegare anche il contesto molto bello che uno potrebbe dire però è una storiografia un po' dove ti sbatte il documento un po' in faccia e non ti dà tante spiegazioni però in realtà crea un po' quell'aspetto un po' etico ma è anche un po' realistico e un po' di contesto che ho veramente tanto apprezzato tanti dettagli tipo il il cappio d'oro sull'arcione del 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 capo del generale adesso non mi ricordo il nome bene del generale trunzberg trunzberg quello che è esatto che è bellissimo perché l'idea di carlo quinto era dire io cioè papa tu ti sei messo coi francesi e hai fatto uno sgarro che devi pagarlo con la vita tanto un papa morto un papa se ne fa un altro quindi almeno ti impicco con la corda d'oro alla memoria di giordi del grandissimo di andrini stasera i nomi zero scusate però è un esperiente narrativo anche presente un po' nella storia nella storografia dell'evento che veramente aggiunge tanto poi potremmo parlare per anni e anni anche della costumistica all'interno del film storico che quando fai un film sul 1945 è un conto se fai un film sull'anno 1498 1405 poi 1526 se non sbaglio 25-26 ambientato il mestiere d'armi se non sbaglio proprio mentre stanno scendendo il signorium muore nel 26 nel senso poi il 26 avviene il sacco di Roma esatto il altro personaggio su cui dovrebbero fare un film non so se nessuno abbia fatto un film in realtà anche cioè io anche noi abbiamo come scuola siamo intitolati a quel personaggio che è benvenuto Cellini non insistiamo a sufficienza su questa figura non so se abbiamo fatto film mi sembra una vita violenta era stata fatta una vita scelerata quello diretto da Battiato che però era non Franco ma Giacomo Battiato ma c'è tanto materiale veramente bello per fare un film storiograficamente accurato ma di intrattenimento l'intrattenimento è anche da questo poi di conseguenza anche istruttivo almeno per capire il contesto gli eventi e tutte queste cose qua ce n'è veramente tanto perché se uno entra un pochino nella storia conosce una marea di persone curiosissime di eventi bizzarri di eventi molto molto interessanti anche poi io volevo parlare anche di un altro regista famoso per le proprie pellicole storiche che è Mel Gibson che anche lui è una patata bollente a questo punto di vista perché ha prodotto allora vediamo passion aggiungiamo tra i film storici perché perché sì fatto storico voglio dire mi sembra abbastanza è bellissimo patriota è tutta la parte anche la scelta delle lingue antiche riutilizzate nel l'ho trovata bellissima bellissima veramente molto molto intelligente come cosa che poi condivide con apocalipto questa cosa quello in maia quello un po' più romancè è un po' più romanzabile ma lui diciamo il suo peccato originale è Braveheart dal punto di vista degli storici che è ormai diventato un'altra live soltanto di film di film di intrattenimento però diciamo il più valore storico è abbastanza sì 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 no infatti di questo di questo William Wallace che sembra una specie di barbaro neanche del 600 dopo Cristo ma proprio un barbaro di quelli alla stregua degli uomini delle caverne che carica con i bastoni dei fanti inglesi anche lì un po' che non sanno bene quello che fanno quando in realtà casita era un nobile scozzese con l'armatura a maglie il proprio standardo che era anche molto molto bello devo dire tutto armato di tutto punto con le formazioni arcieri e tutto quanto tanto che effettivamente ha dato il filo da torcere gli inglesi perché con quattro scappati di casa come li rappresenta non dà il filo da torcere a un esercito come quello inglese dell'epoca infatti ha perso William Wallace tra l'altro cioè vabbè lasciamo stare però in quel caso è interessante vedere l'impatto del film ma anche stodicizzare sia cosa ha provocato il film sia gli effetti del film dopo Braveheart il nazionalismo scozzese è ritornato in auge grazie a quel film sì 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 con il tartan che non era stato ancora il tartan che non era così e il kilt che non esisteva ancora che non esisteva ancora però è scozzese quindi non vuoi metterlo in Braveheart ecco in una classe sarebbe anche interessato da spiegare questo parlavamo di 300 il contesto in cui è nato 300 non tanto parlare degli eventi in sé cosa è accaduto ma girato dopo l'11 settembre ritornava il discorso oriente contro occidente e quel film si scrive subito in quel quel percorso come le crociate di che anche quello ma quello l'ho fatto l'avevo fatto vedere ma perché effettivamente quello ha un suo c'è anche quello un film a tema naturalmente infatti ma dite dite le crociate di Ridley Scott Kingdom of Heaven cioè è stato viene realizzato per contrastare diciamo l'approccio alla Bush dello scontro di civiltà quindi anche quello è politicamente so che in quel caso io sono d'accordo con il messaggio del regista quindi se vogliamo e poi e anche oggettivamente quello che tutte cioè anche lì sono tutte cose che si trovano già nelle cronache già anche se vogliamo una storia che si è diventata cioè i templari arroganti che poi finiscono per far perdere i crociati e i corni di atti Saladino che viene visto come un avversario cavalleresco dagli stessi crociati sono tutte cose che anche qua sempre per rimanere quanto ci dice il nostro adesso un po' di commenti perché stiamo andando verso le 11 volevo mandare un po' di commenti anche dei nostri visto che ci seguono e mi sembra un minimo giusto anche badarli le osservazioni io ho l'esempio di Elisabethiano spesso i film sono curati al punto di vista della messa in scena ambienti costumi ma il quadro storico che ne esce è pura propaganda questo è per esempio un aspetto che non si bisogna distinguere tra l'aspetto diciamo del mezzo che può essere molto curato e invece poi infatti il napoleon tutto sommato non è che sia dal punto di vista di costumi gli ambienti la musica la fotografia quello non è il problema è che poi se ne esce con un messaggio non solo antinapoleonico questo per me già basterebbe però diciamo che magari c'è anche qualcuno che la pensa come Wellington nel senso comunque inglese scolto quindi si però poi si può dire che il mondo degli storici militari allora diciamo se uno si occupa di storia militare o è nazista e se ne occupa segretamente oppure se ne occupa a livello accademico allora è anglofilo e ti dice che fino al midollo quindi a livelli cioè per lui gli inglesi e poi gli americani hanno ragione fin dai tempi di probabilmente di sì probabilmente forse Gugliano Conquistatore dai o Alfredo Giallo e già lì il fatto che fosse in realtà un norreno che era naturalizzato francese già lì ci puzza un po' eh quindi c'è un po' questa cosa del oppure mi hanno fatto qualche esempio di film invece legati alla sconera mondiale fatti in Italia per esempio L'uomo che verrà di Giorgio Diritti che però sono anche qua mi hanno citato di film anche c'è questo per esempio L'uomo che verrà di Giorgio Diritti oppure anche quest'altro c'è un film sui fratelli Cervi girato nel 68 da Gianni Puccini però sono io allora io non ho una cultura cinematografica enorme questo sono alcuno ad ammetterlo però non sono film particolarmente noti comunque cioè sono sempre paradossalmente qualcosa del genere più famoso nell'ambito della guerra civile è Mussolini ultimo atto Costegger che interpretava Napoleone in Butterloo sì che interpreta Roger Steiger mi sembra interpreta Mussolini anche nel Leone del deserto tra l'altro quindi è un film tra l'altro girato da Lizzani e che qui ricordiamo per il mitico San Babi la ore 20 usciamo ormai può essere considerato però era proprio fatto all'epoca era proprio un film storico come documento ecco non è a me viene in mente un film di Spike Lee Miracola Santana bello ma quello è un bel film infatti ci voleva un americano tra l'altro un afroamericano per fare un film fatto bene in cui mi ricordo che Lampi protestò perché i partigiani compivano un attentato e poi se ne lavavano un male non è così calcata nel film cioè quindi Spike Lee mi sembra anche abbastanza ha un taglio abbastanza neutral cioè vabbè fa vedere ovviamente ci sono rimane un po' su osteoteri italiani buoni tutto sommato anche l'italiano fascista fino in fondo che poi viene ucciso dai tedeschi da che è consvolto anche lui nella rappresaglia è comunque una brava persona perché comunque il paese poi vabbè la realtà delle famiglie italiane comunque spesso erano divise al loro interno nel senso quindi e poi fa vedere diciamo anche la questione sono scene con cioè i partigiani che non sono cioè che quindi poi si ritirano per sfuggire le rappresaglie esponendo la popolazione c'è l'ufficiale tedesco che citta Pascoli perché ha letto i canti di Castelves cioè quindi sì ci sono tutte le cose che però diciamo che Spike Lee ha il vantaggio di essendo all'esterno fa un lavoro comunque a mio parere anche perché poi lui interessava raccontare la storia di questi soldati afroamericani della divisione Buffalo il resto è un po' contorno è come se noi dovessimo parlare del di eventi che non qui siamo relativamente esterni nel senso ma infatti c'è anche questo discorso cito un'altra domanda che ci hanno fatto secondo me il cinema italiano è sempre stato abbastanza neutrale rispetto al resto gli ambienti culturali basti vedere lo spazio dedicato a Fission come il cuore nel pozzo questo non sono convintissimo nel senso sì hanno finanziato anche film però ecco se noi andiamo a vedere la filmografia di destra tra virgolette in Italia nel senso cose come i Martinelli o i tentativi di film sulla questione delle foive sono tendenzialmente a vista artistico anche quello Redland per esempio che devo anche averlo visto al cinema credo sì quelle proiezioni che si fanno per ragioni politiche però diciamo sono film abbastanza mediocre ecco nel senso non c'è non è emersa un'alternativa nel momento in cui tra l'altro diciamo sull'altro lato sempre sempre postulando che esistano dei lati ben distinti si è passati da una serie di pellicoli anche un filone neorealista di altissimo livello e poi anche altri film impegnati anche qua molto vali tante volte anche all'interno del film di genere quindi ci sono film ci sono western italiani che hanno una patina storica comunque vanno a prendere anche alcuni sono proprio anche storicamente cioè per esempio la rivoluzione messicana in un determinato momento la dominazione asburgica in messico cioè ci sono western italiani proprio con perché poi ovviamente con gli asburgo in messico puoi mettere gli ufficiali austriaci cattivissimi che ovviamente sono tutti esatto io più che dire neutrali sono i nonni di quella di quella per i film italiani storici ambientali d'italia più è neutrale paraculo sì è più adeguato primo cristianamente si alzano un po' le manine così ma infatti probabilmente è un film come comandante oltre al fatto che mi dicono che ci sono scene per esempio la scena in cui partono e c'è l'inno insommergibilista in sottofondo che deve essere sicuramente di spessore però appunto alla fine riesce a evitare tutte le varie mine nel senso appunto di rappresentazione storica perché appunto non non è è un film su un militare comunque al servizio dell'italia fascista però diciamo evitando gli aspetti più ideologici presente mettendo in luce gli aspetti più appunto umanitari però al tempo stesso la parte militare esce bene ma sono riusciti ma infatti è quello c'è se si capisce nel momento in cui uno tiene conto che ormai quello che è il clima l'aria che tira non è c'è c'è a livello governativo è quella di una nuova democrazia cristiana cioè a dirla tutta è nel senso quindi è un al di là delle fantasie diciamo di certi personaggi che tra l'altro dovevano andarsene il 26 settembre del 2022 tra l'altro tra cinque anni se ne andranno di nuovo invece no comunque no sul film a parte il film italiano e il film io ho altri film notevoli sul piano storico invece relo militare film belli li hanno fatti anche nel mondo angolo sassone perché ci sono quegli appassionati che li fanno quei film come uno che a scuola volevo far vedere ma alla fine non sono uscito a far vedere perché c'è un po' po' di problemi di lunghezza è Gettysburg naturalmente quattro ore di ricostruzione curatissima io a un certo punto ho scherzato ho detto ma si abbreviamolo togliamo tutte le parti di trama tutte le parti in cui parlano botte da orbini lì con i suoi ufficiali che togliamo mettiamo soltanto le parti rimarrebbe comunque tre ore e mezzo probabilmente togliendo le parti di trama ecco nel senso perché poi appunto lì hanno potuto basarsi sull'appoggio ovviamente tutti gli appassionati Reinhardt che hanno partecipato a quel film quindi molte le comparsi era gente che non doveva non dovevi dargli tu il costume e la comparsa c'erano già erano già costumi moschetti tutto ricostruito se non addirittura alcune cose originali quindi basandosi su quello hanno fatto un filmone che con Ronald Maxwell che tendenzialmente si è abbastanza fregato del aspetti come no però ha venduto abbastanza diciamo anche anche Colson Generals un po' meno che anche qua quattro ore passa che è il prequel e in un'epoca negli anni 90 in cui hanno fatto questi film sono poi accusati di essere ultra filo confederati soprattutto Colson Generals ma all'epoca le statue erano ancora al loro posto era un tempo di recente certo poi anche qua uno dovrebbe a livello di dati dovresti sempre problematizzare dovresti dare un accenno anche non nel senso presentando anche diciamo quella che è la ricezione nel senso quello mi sembra invece avevo fatto vedere Glory questo mi manca Glory è sempre la guerra civile americana è la storia del primo reggimento afroamericano addestrato al nord e poi schierato sul campo di battaglia quindi diciamo si concentra più che altro sulla questione cioè dell'arruolamento come mezzo di emancipazione anche proprio per essere accettate accettate a partecipare alla guerra guerra che combattuta di fatto cioè diventa a un certo punto in poi viene diventa una guerra legata al cioè proprio per liberare gli schiavi anche se era iniziata in altro modo quindi quello è una è un film secondo me notevole ritornando un po' diciamo siamo un po' in chiusura cioè poi per carità io potrei rimanere qui anche però magari i nostri ospiti sono stanchi diciamo per carità anche io domani mattina alle 7.40 devo essere in classe perché però a parte questi dettagli di scarsa di scarsa rilevanza la chiusura la butto lì qualche film storico che vorreste vedere qualche film qualche periodo qualche evento in particolare che vorreste vedere rappresentato al cinema che non esiste ancora che non esiste ancora uno che vi piace vedere che stile che genere fate voi io ci ragiono un attimo ma allora io ecco a questo punto colgo l'occasione per dire che visto che è uno dei miei cavalli di battaglia a livello storico beh io invece ho apprezzato un film molto bello che ho quello di Soderbergh sul C quello è un filmone fatto anche abbastanza bene poi è una trasposizione molto legata poi ai diari del C quindi alcuni anche alcuni diversi episodi sono proprio tratti dal però rende molto c'è poi Benissimo del Torre patente identico quindi è un tra l'altro sempre sulla rivoluzione cubana un film che non è un film storico ma da un quadro molto bello in mezz'oretta da un ottimo quadro la rivoluzione cubana il padrino parte duro seconda le scene cubane sono fatte veramente sono anche alcuni dettagli come il telefono d'oro beh c'è davvero è davvero stato omaggiato il telefono dorato sono una serie di aspetti anche abbastanza persino quando vanno in quel night che c'è Elephant Man pare che fosse effettivamente uno che vive all'Havana che si esibivano in un'altra no no è molto è una una ricostruzione abbastanza accurata con ecco quello diciamo che penso che sarebbe interessante comunque cioè quello è un ambito su cui c'è c'è praticamente nulla anche sul sulle guerre indipendenza cubane c'è veramente c'è un po' su un film solo ma anche loro alla fine pur avendo un'industria cinematografica di tutto rispetto a Cuba al di là delle dimensioni si sono concentrati molto poi comunque sul filone più neorealista tendenzialmente quindi sì 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 allora abbiamo un po' di ecco questo è bellino via col vento via col vento è un altro filmone storico che altro che io diciamo via col vento ho avuto un problema che ho sempre pensato che fosse un film un po' da donne poi me lo sono visto mi sono letto il libro e beh è notevo è veramente bello anche il libro tutto sommato bello anche il film qualche modifica l'aneddoto è la prima proiezione venne invitato l'ultimo re luce vivente la guerra di secessione che disse se avessimo avuto tutti quei soldati avremmo vinto noi eh beh eh beh eh beh sì allora dicevamo prima l'ambito delle guerre d'Italia c'è una quantità allucinante di di materiale per fare di personaggi come anche cose palpe nel senso anche diciamo con uno stile un po' meno paludato diciamo un bel palpe con benvenuto Cellini che accoltella la gente nelle risse per esempio su Caravaggio cioè sì 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 eh c'è c'è il personaggio di Gatta Melata Gatta Melata Gatta Melata sì già solo con leone uno dice chiamiamo un film Gatta Melata e facciamolo subito o o sul Principe Eugenio se voglio che è un no no vabbè quello ma sì diciamo il nostro però mi sa che non dobbiamo rivolgerci al cinema italiano nel senso questo in un contesto nel resto del mondo magari il dramma storico qui magari chiudo visto non abbiamo interessante però perché una cosa un po' da approfondire nel resto del mondo il dramma storico anche il polpettone storico è molto in voga e diventa una tipica cosa che fanno nelle potenze emergenti per creare una narrazione storica per autofomentarsi anche i turchi per esempio hanno fatto il film sulla conquista di Costantinopoli hanno fatto i turchi tra l'altro che a livello cinematografico stanno diventando anche tutte le serie televisive turchi che vendono un po' in tutto il mondo stanno diventando effettivamente importanti da quel punto di vista e fanno una serie di filmoni abbiamo fatto anche tutti i film thriller ambientati per esempio con i servizi segreti turchi che facevano le forze spese di turchi facendo le operazioni nel Kurdistan iracheno tutto la filone di Kutlar Vadisi la Valle dei Lupi con anche vabbè in Cina ovviamente vanno avanti fanno filmoni come non come non ci fosse un domani alcuni un po' dozzinali insomma la foresta dei pugnali volanti tipo Iro è bellissimo Iro di Zangimu è bellissimo che poi il filmone storico che alla fine dà il messaggio che ci vuole un unico messaggio obesiano che ci vuole un unico imperatore esatto chi fu chi se non in parte c'è che ha il mandato celeste e invece vabbè adesso anche lì l'ultima cosa che dico bellissimi film storici li ha fatti Kurosawa ad esempio anche anche lì se uno studia la storia di Takeda Shing dice è lui al di là dell'invenzione del Sosia così però quello che è avvenuto è avvenuto così è bellissimo da quel punto di vista lì quindi l'importanza anche a livello poi non era direttamente la sua intenzione però a livello di identità il film storico sulla propria storia è molto importante ma infatti è una cosa che fa sì poi si può diciamo uno potrebbe dire da storico un uso un po' strumentale della storia però ha comunque un impatto a livello e qui su questo io non posso non dare ragione a Fabri sul quando ma anche Caras se non sbaglio tutti e due hanno quando Fabri ha parlato di una pedagogia storica quindi qua mi suggeriscono ancora un dramma storico su Pio Secondo che cerca di fare un'ultima parlamentare crociata Amedeo Ghiè che vabbè insomma meglio di no se no bellissime scene oppure anche un altro personaggione ancora meno noto è Francesco De Martini ma bellissime scene poi è diventato c'è dopo tutta la questione poi è diventato diciamo un po' uno dei diciamo le figure di spicco dei servizi italiani nell'ambito medio orientale dopo la guerra sì 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 o ancora vabbè sempre l'ambito Messico Centro America sì anche America Latina inizio metà novecento qualcosina c'è qualcosina adesso la rivoluzione di Western sulla rivoluzione messicana per esempio che però diciamo non sono non sono storici ecco io diciamo che alla fine chiudendo io mi divido in cioè siccome ci sono alla fine due tipi di film che meritano detto così di pancia uno è il filmone storico epico che va nella direzione della pedagogia nazionale l'altro è il film è il film che appunto ha un valore artistico nel senso che riesce a darti un po' il quadro di un'epoca o il quadro di un personaggio o allora uno studio come può essere per dire un berlindo che è un che poi è un'opera assolutamente minore del settecento nei pochi casi in cui abbiamo davvero un libro che il film è molto meno del libro ecco nel senso sì sì no sono d'accordo su questo punto assolutamente sì 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 c'è questa differenza gli intenti gli intenti rispetto al ecco al a certe cose come abbiamo che hanno un po' un messaggio che lascia un po' il tempo che trova cioè nel senso allora salutiamo i film storici che stanno facendo ultimamente fanno soltanto dell'attualità però non hanno mai in mente di pensare al futuro guardare il buon il buon che amicissimo che avrebbe potuto poi non l'ho sentito perché è un po' impegnato con lo studio quindi non ho voluto disturbarlo ma poteva anche sarebbe potuto sarebbe stato anche lui un ospite gradito la prossima volta anche Visconti sì Visconti ha fatto delle cose notevoli Gattopardo abbiamo parlato Senso è un altro filmone con la ricostruzione storica impressionante tant'è vero che quando il buon Tinto Brass gli fu proposto di fare un film sulla novella di Boito lui disse ma io non posso fare un film in costume ambientato nell'ottocento dopo che c'è stato Visconti ambientiamolo in epoca della seconda guerra mondiale con fascisti partigiani che così gli diamo delle tinte con Disploitation con con Gabriel Garco ufficiale dell'SS non ci penso di far ridere infatti era anche quello sì diciamo poi Brass non è che fosse propriamente scarsissimo come regista infatti poi si è dedicato a cose un pochino più leggere ecco nel senso però aveva fatto anzi tutto un tirocino comunque anche con diciamo serio so che ovviamente erano film che non guardava nessuno detto volgarmente ecco nel senso però questa anche qua la scelta diciamo storica non è ha un suo perché ecco non ha un suo perché vedere invece Napoleone che gattona sotto il tavolo o che si lascia il cibo con Giuseppino cioè nel senso quando ripeto nei duellanti anche la scena di sesso era fatta meglio sicuramente nettamente meglio cioè ma anche in The Last Duel non l'ho visto al quale però io credo che le armature fanno schifo le armature di The Last Duel sono orribili sembrano sembrano montate con la fiamma ossidrica questo non li ho perdono mai guarda una chicca che mi è piaciuta è che abbiano rappresentato anche Carlo il pazzo che uno che non ha idea di chi sia dice ma anche questo invece ti fanno te lo fanno vedere qualche volta che fa qualche mossa particolare Scott l'ha fatto per ha detto guarda che ti metto quindi quando vuole lo sa fare e invece non vuole non tutte le ciambelle escono con il buco sì questa è proprio o diciamo anche vabbè uomini con insomma diciamo tutti quelli che diciamo hanno sì mettiamola così diciamo che è un non vorrei sembra troppo di parte dire il film storico è bello quando piace a me ecco che poi è onesto anche dirlo ma sì d'accordo però diciamo io sono io voi non siete nessuno e quando piace a me vuol dire che è bello diciamo che secondo me ci sono anche film che magari non piacciono ma sono belli nel senso che non esaltano ma sono oggettivamente ci sono film che non mi piacciono ma non è che non posso insegnare Kant perché non mi piace cioè appunto appunto anche se avresti no però diciamo al punto di vista storico bisognerebbe diciamo avere ecco quantomeno avere un minimo di rispetto per la storia e limitare diciamo magari poi gli aspetti più romanzati gli aspetti ci stanno ci stanno perché comunque la storia sta anche un taglio narrativo quindi un 300 che ha tutte queste cose molto romanzate ma rientrano nello spirito dell'epoca che se vogliamo vuole cioè emerge effettivamente anche dal fumetto il fumetto alla fine è una e quindi funziona quindi sì sì da quel punto di vista funziona benissimo voglio non so se ci sono perché come non è piaciuto ma non è piaciuto a un sacco di gente cioè alla fine è stato non ha funzionato sì 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 ma ci sono altri commenti ci sono il buon il buon Giampa che salutiamo cita Ran sempre di Kurosawa che sì sì no dal punto di vista di film storici è sempre stato molto 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 bravo va bene allora diciamo siamo abbiamo fatto una bella live comunque google permettendo ci siamo un attimo ripresi per cui tanto trovate entrambe le trovate magari adesso poi comunque trovate entrambe sempre sul canale ormai ho inaugurato la playlist decima musa tutto maiuscolo dedicato anche all'ambito cinematografico quindi magari capiterà di commentare qualcos'altro o di va bene benissimo grazie 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 proprio stasera che c'era un numero di spettatori allucinante rispetto al solito c'è stato questo contrattempo per cui eh ma perché si sono diventati troppo potenti dovevano umiliarci in questo modo si no stanno venendo fuori talmente tante cose i film di Clint Eastwood e il suo battaglia di Wojima è detto dei giovani che ha fatto libri sui scattori c'è l'altro anche su Cartaglia eh bellissimo che non è storico però è ambientato un po' così eh eh relazioni pericolose per dire c'è un film romantico ma guarda che quello è un film che comunque dato da vedere anche cioè comunque ritrae un po' la Francia si è regime ci spiega anche poi quello che era a livello poi ci siamo dimenticati mentre dura la guerra quello che mi è già costato un problema di copyright film mentre Ipazia è veramente una ciofeca inenarrabile con questa che scopre l'ellissi nel quinto secolo cioè cos'è l'ellissi che poi andavano contro la concezione tra l'altro platonica già pitagorica del cerchio come forma perfetta quindi sì 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 invece mentre due mentre come in italiano che l'hanno tradotta cos'è la lettera franco lasciamo stare però è un gran bel film con l'attore che fa franco che assomiglia più a franco rispetto al franco originale sì sì identico anche con la famiglia Nastrai infatti io spero di avere l'anno possibile con le quinte linguistiche soltanto per fargli vedere Migliana e Strai l'hanno esagerato così tanto che non può non starti simpatico chi? Migliana e Strai ah vabbè ma lì è davvero guarda che la sottotitolo del film Paco e l'altro e Pepe Paco alla conquista della Spagna sostanzialmente chiudiamo con questi due a parte la sedola Alcázar che è un ma che non era neanche brutto infatti agli spagnoli piaciuto più di tutto quello che sono riusciti a fare loro dopo e mi citano questi due che vabbè siamo sempre nel filone anticoloniale poi uno la batteria d'Algeri e i patienti di attualità per quando è stato fatto che è un film che adesso vediamo con chi è storico però effettivamente è un diciamo sono due grandi film anche effettivamente impegnati in cui la storia alla fine diventa anche un pomme però comunque hanno un taglio storico che rende anche la complessità degli eventi non sono film pur prendendo una parte in maniera abbastanza netta non sono film comunque oleografici in cui cioè non è novecento per dire cioè le figure anche la figura degli ufficiali francesi in la battaglia d'Algero poi Keimada con la figura del interpretata se non sbaglio da Marlon Brando è appunto diciamo Keimada è ambientato in quest'isola caraibica in cui avviene una rivolta anticoloniale tra l'altro girato in Colombia tra attori non protagonisti cioè è un sempre di Ponte Corvo è un altro filmone no ma quello diciamo paradossalmente per fare i film belli si andava a farli al di fuori cioè ad ambientarli al di fuori dell'Italia per certi versi nel senso certi film notevoli ma paradossalmente gli italiani sono bravissimi a fare cose che non li riguardano a farsi i fatti degli altri sono bravi a combattere cause che non li riguardano è la stessa cosa con il cinema ma è infatti sì beh esportiamo foreign fighters dal dal 1200 anche prima compagni di ventura nel 5 e rapita andavamo in giro a farci i fatti degli altri in mezzo a Europa del resto gli altri venivano da noi a farsi i ricorsi storici va bene grazie a tutti per averci seguito fin qui vi vedo che magari poi sono sempre gli stessi però determinatissimi fino alla fine non vi non vi molestiamo oltre ho messo il link del caso in modo che da un si possa fare adesso metto anche proprio la scheda in modo che si passi da un video all'altro ecco per è buon grazie a tutti buona serata grazie mille buona serata buona serata alla prossima grazie a tutti